Ciao ragazzi, io sono TheShaker2.0 e siamo su un nuovo video di saluti del mio canale e poiché molta gente mi ha chiesto di salutarla in un nuovo video e adesso vi saluto la gente che mi aveva chiesto di essere salutata e sono le mie compagne Arianna Murari, Mescheret, Chiara, il fratello di una mia compagna diretta a Tadiel e sua sorella, Riccardo Adani e Federico Uva e il fidanzato di Arianna Murari Ciao ragazzi, ci saluto dal video e augurarvi anche buona Pasqua anche se è un po' tardi, così erano quando è la Pasqua finita però ho avuto da fare con il mio raccordato e come sapete un po' più quanto il fiducio c'è, quanto il fiducio c'è da fare con il fiducio e adesso c'è un altro video e al prossimo video non so cosa potremmo dare quindi potremmo passare un po' di tempo perché devo decidere su cosa fare con il mio prossimo video intanto vi iscrivetevi al mio canale e lasciate like, condividete e ciao ragazzi al prossimo video